La convocazione di un consiglio comunale ad hoc con un ordine del giorno specifico per ricorrere al TAR al Tribunale Amministrativo Regionale contro l'ennesimo aumento delle tariffe sull'A24 e l'A25 è stato richiesto da tre consiglieri comunali dell'Aquila, di Noi con Salvini, Emanuele Imprudente, Daniele Ferella e Luigi Deramo. I tre hanno già chiesto il parere all'Avvocatura Comunale e non si fermeranno fin quando, dicono, il primo cittadino e l'amministrazione comunale non presenteranno ricorso al TAR e il Comune dell'Aquila si faccia capofila di un atto collettivo a difesa non solo degli aquilani costretti a utilizzare l'autostrada ogni giorno ma anche di tutti gli altri appartenenti ai piccoli comuni interessati dal mega aumento del pedaggio autostradale. L'omertà che incombe su questa vicenda attacca il capogruppo Emanuele Imprudente dovrebbe preoccupare tutti. Gli aumenti si ripropongono con scadenza ormai annuale vengono autorizzati quasi in silenzio e incidono sulle economie già precarie di moltissimi cittadini che percorrono la tratta interessata per piacere, per esigenze di lavoro o di studio ma anche per chi lo fa per questioni di salute. Molti comuni nel corso di questi anni hanno infatti tentato la strada del ricorso prosegue Imprudente, chiamando a raccolta tutti gli enti interessati ma in pochi hanno risposto. Chiediamo al sindaco, si legge dunque nella nota, di condividere un percorso unitario mirato a presentare un ricorso al Tribunale Amministrativo per l'annullamento del decreto interministeriale che ha autorizzato gli aumenti delle tariffe autostradali sulla A24 e la A25 per chiedere poi a tutti i comuni abruzzesi, le province e gli antiparco di avviare lo stesso ITER nei confronti del Tarra. Torna a intervenire sulla vicenda dell'aumento dei pedaggi autostradali anche la senatrice PD Stefania Pezzopane con un'interrogazione rivolta ai ministri dei Trasporti del Rio e dell'Economia Padoan. Nel documento la senatrice Pezzopane sottolinea che solo 7 concessionari su 27 abbiano di nuovo rincarato i pedaggi e dopo la Milano-Torino l'autostrada dei parchi è quella per cui il pedaggio è più aumentato in una regione come l'Abruzzo che ha risentito in modo pesante della crisi e in cui i pendolari, anche verso Roma, sono moltissimi. Tra gli aumenti operati per il 2016, la senatrice Pezzopane ricorda anche la tratta L'Aquila-Roma Est che è passata da 11,70 euro al costo di 12,10 euro come per l'Aquila-Avezzano passata da 4,90 a 5,50 euro.